Salve a tutti e benvenuti sui Levelstep! Oggi vi farò vedere come utilizzare le mandate qui su Ableton. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è creare una traccia di ritorno. Di default già Ableton ci mette a disposizione due tracce, una col Reverber e una col Delay, come in questo caso. Vedete, ci sono due tracce di ritorno. Si trovano qui sotto, dove appunto c'è il Master. Qua ovviamente c'è il Reverber tutto al 100%, così qua avrò questo canale tutto bagnato, tutto con l'effetto, e qui ho messo un Ping-Pong al 100%. Questo perché? Perché qui almeno posso avere l'effetto separato. Se io metto un Reverber in questa traccia, anche se metto al 100%, però in questa traccia c'è tutto il Reverber, tutto il Wet, però non posso gestire solamente il Wet, quindi che ne so, se io sul Wet voglio magari mettere un equalizzatore, fare delle cose separate sia per Dry che per Wet, quindi per il suono senza effetto e per il suono con l'effetto. Invece con le mandate, qui abbiamo dei rettangolini, vedete? Sono due, perché abbiamo due tracce di ritorno. Vedete che non c'è scritto che questo è del Reverber e questo è del Delay? Sì, possiamo capirlo perché questo è il primo, diciamo, è la prima traccia di ritorno e questa è la seconda. Però se abbiamo tante tracce di ritorno possiamo anche confonderci. Dobbiamo semplicemente guardare qui in basso a sinistra e qui ci sarà il nome della traccia, vedete? Quindi manderò un meno 20 dB in questa traccia di ritorno che ho creato. Ascoltiamo. E quindi, come vi dicevo prima, posso mettere in solo il Wet, perché qui appunto ho messo al 100%. Posso mettere qua un equalizzatore, un compressore, possiamo fare tutto quello che vogliamo. E poi dici, guarda, vediamo come suona senza effetti e posso bypassarlo, perché qui appunto abbiamo il tasto che abbiamo anche qua. Posso aprirla, basta cliccare su questo triangolino e vedete che ho gli stessi, diciamo, controlli, il volume, il pan, possiamo mandarlo nuovamente ad un'altra traccia di ritorno, possiamo fare altre combinazioni. Però vedete che io posso mettere in solo, posso bypassare l'effetto oppure con l'effetto. Certo, se abbiamo più di un suono, quindi abbiamo questo e questo, e questo va pure sul riverbero, e io voglio un attimo bypassare questo riverbero e non anche questo, lo faccio, vedete, in modo generale. Però, ripeto, potete creare altre tracce di ritorno con altri settaggi diversi di riverbero, un riverbero più lungo, un riverbero più corto, il ping pong così, una compressione parallela, questo potrebbe essere anche comodo. Questo ovviamente ci aiuterà anche a, se non abbiamo un computer molto potente, di utilizzare un solo riverbero, o anche due, invece di utilizzarlo su ogni singola traccia. Possiamo anche creare delle automazioni, ad esempio clicca destro, mostra automazione. Posso fare una cosa del genere. Posso mettere una traccia di ritorno, con, tipo, un appunto, possiamo fare una compressione parallela, tipo esagerato così, e qua, metto in solo, non togliamo tutti questi effetti, ma mettiamo la compressione parallela. E questa è una compressione parallela, lasciando appunto così il suono originale da una parte e il suono con l'effetto da un'altra parte, perché appunto mandiamo questa traccia in un'altra traccia di ritorno. Quindi il nostro suono viaggerà sia sul master che sulla traccia di ritorno. Io ad esempio non le utilizzo mai queste mandate, perché mi viene un po' scomodo, soprattutto quando faccio il resumpling, ad esempio, creare una traccia audio. Vedete che ho messo il delay, ad esempio, e io scelgo, ad esempio, questa traccia, che si chiama così Serum. Vado a registrare. Vedete che qui il delay non c'è. E senza effetti. Questo mi viene un po' scomodo. Dovrei poi utilizzare la funzione resumpling. Ovviamente andrà a registrare tutto quello che esce dal master. Solo che appunto, se ho messo effetti sul master, di nuovo va a passare appunto su tutti gli effetti che ho messo. Io preferisco lavorare con i rack. Con i rack io mi creo, ad esempio, il riverbero. Se voglio gestire solamente il wet, mi vado a creare questa catena. Crea catena. Qui faccio. Qui non metto nessun effetto. E qui avrò appunto solamente il riverbero. Così potrò equalizzare solamente il wet. Potrò mettere altri effetti. Con questo rack. Quindi questo è come se ho fatto una mandata. Vedete? Questa è la traccia normale. Poi posso mandare una percentuale. Certo, il riverbero, il wet di questo, passerà anche su quello che c'è nel gruppo. Dipende poi se vogliamo fare una cosa ancora più separata. Possiamo ovviamente disattivare le mandate. Ad esempio ho messo qua il delay. Posso per un attimo dire, aspetta, vediamo come suona senza delay. Sì, potrei disattivarlo da qua. Però disattivando da qua, vado a disattivare il delay per tutte le tracce. Invece voglio farlo solo per questa. E quindi posso fare click desktop da qui, dalla percentuale del delay, se voglio disattivare questo. Poi qua ci sarà disabilita mandata. Oppure disabilita tutte le mandate. Voglio disattivare solo questa qui che ho selezionato. Vedete che diventa di questo grigio così. Non c'è più. Per attivarla, clicca destro, attiva. Disattivo tutte, tutte disattivate. Un altro punto a favore delle mandate è che posso registrare solamente il riverbero, solamente il delay. Ad esempio, io gli dico qua all'entrata, registrami solo il delay. REC. È registrato separatamente il delay. Come ho detto prima, questa traccia andrà per i fatti suoi, la traccia di ritorno pure. Però io posso dire, guarda, questa la voglio mandare direttamente sui send. Quindi da qui metto send all, quindi solo sul send. Adesso questa non andrà sul master e poi da qui darò una percentuale su un'altra traccia, ma andrà tutto direttamente sulla mandata. Sempre ovviamente dipende da qua poi il volume. Così non si sentirà niente, però poi posso dire, guarda, mandami tot di volume in questa traccia. Poi il pre e il post. Allora, se mettiamo ad esempio così, lasciamo post, significa che se io abbasso qui il volume di questa traccia, di cui ho mandato una percentuale, non si sente, anche se ho messo così, vedete. Perché post va post fader. Se invece metto pre, anche se abbasso il volume, vedete che continua? A lui non importa quello che ci sarà dopo appunto il fader. Questo però è un po' scomodo se io faccio tipo un'automazione qua, per magari abbassare un po' il volume, poi il riverbero resta lo stesso. Cioè la mandata resta comunque così. Se abbiamo tante tracce di ritorno e magari ci crea un po' di confusione, possiamo, cliccando qui, sul secondo pallino, qui R, possiamo nascondere le tracce di ritorno. O se magari per sbaglio abbiamo attivato questa funzione, ma dove sono le mie tracce di ritorno? Oddio, dove sono? Vado a creare, ma non ci sono, non ci sono. Basta poi attivare qua, vedete. Qui abbiamo questi rettangolini, ma nella vista session abbiamo questi knob, così, vedete, posso decidere così. Ci viene anche più comodo, secondo me. Qua posso mettere pre, vedete, nei send. Abbiamo una gestione di routing, di mandato, un po' più bella da vedere, più comoda soprattutto. Se avete qualche dubbio o volete sapere qualcosa in più, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Come al solito vi ricordo di lasciare un like se questo vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, soprattutto attivate pure la campanella, per restare sempre e comunque aggiornati. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!